Guarda se il gatto metter l'accensione usata così in questa maniera. Sì, ma credo anche a dire una cosa a Guido. Tanto farle l'ambigare in questa maniera qua, bisogna essere... Guarda che sporco! Guarda che sporco che è! Piliate all'escrivania, ai piedi dei gatti qua. Ben messa, ben messa. Ecco là, allora, bisogna essere acceso. Guarda se la farfa dica scrive acceso spento. Ho acceso, ho acceso. Ho acceso. Ho spento. Ecco qua. Ho spento. Giusto ho acceso. Ho acceso. Guarda che linda! Mi ha acceso, mi ha acceso. Sì, sì, è acceso. Guarda che meraviglia. Guarda che il computer è una meraviglia. Computer sei collegato col mondo. Siamo già a Asiago, guarda che affatto. Come è Asiago? L'altipiano guarda tutto verde con la colonna. Allora... Veramente, anche il formaggio di Asiago. Mi piace il formaggio di Asiago. Mi piace. Faccio amarenda, faccio amarenda. Un po' alla volta. Tutti i giorni col formaggio di Asiago. Dove ho? Mi scrive a Giovanni. Chi ha lì? Dove li ho? Ti riga su? Io ho? No, qui ti riga su. Qui ti riga su? Qui ti riga su. Quante parti ti riga? Qui ti riga su? La compagnia. Dove li ho? Mi importa. Intanto strugano. Eccoli qua, va là. Allora. Allora, due righe di Giovanni. Due righe di Giovanni. Ufficiali. Ufficiali. Scriviamo... Con la... Gattola Pena che scrivo le stelle. No, no. Fanno col computer. Abbiamo il computer nuovo. Scherzo tu? Il computer è una meraviglia. Sei ferma. Vuoi fare col computer? Dov'è War? War. Dov'è War? War. Ah. Dov'è War? Nei programmi. Già. Già verso la cartella dei programmi. È tutto un programma. C'è una fatica con il destro. Sì. Go. Go la gota. Ah. Ci ha fatto l'articolazione. Sì, sì. Eh. Davo me o col sinistro. Eh, va bene. Senti qua. War. Dov'è War? Programmi. Versi la cartella Programmi. Versi la cartella Programmi. Dov'è la cartella Programmi? Sulla P. Imagine i programmi. Sì, non oh. Dove scopi scrivi programmi? Signi, gli programmi sui programmi. Ora, eccola qua. Eccola qua. Programmi, eccola qua. Brava. Per giutto. Per giutto. E adesso? Eh, adesso. Eh, adesso andiamo avanti un po'. Faccio due righe a mano, aspett Intanto vedremo come fare. Fai due righe a mano. Se no vado a dirglolo tanto. Vado a dirglolo. Vado a dirglolo. Vado a dirglolo direttamente. Giovanni! Giovanni! Inutile che te scriveremo!